siamo tornati con il secondo tempo di Shakhtar di Donetsk Roma la Roma in vantaggio per 1 a 0 con il gol siglato al 41esimo di Gegiz under vi chiamo scusa abbiamo dovuto ripartire con la nostra diretta ma abbiamo avuto un piccolo problema tecnico tecnico e siamo dovuti ripartire con una nuova diretta tra pochissimo saremo operativi sui nostri social saremo operativi sui nostri social veramente qualcosa di pazzesco ci scusiamo con tutti quelli che stanno seguendo la vecchia diretta ma problemi tecnici come potete sentire alla fine ci sentivamo male vi senti sentivamo male sentiamo male un po' tutto anche noi in cuffia quindi abbiamo un piccolo problema adesso sentiamo tutto bene quindi il problema è risolto partiamo dalle formazioni la 4 2 3 1 per gli ucrani e Donetsk i padroni di casa che attaccano da destra verso sinistra schiarano così parto vi importa butco poi Ivan ordez ha lasciato il campo a krajstov perché krajstov si è fatto male nei minuti di recupero del primo tempo e quindi ha perso proprio si è fatto male quindi tutto si è al campo addirittura in barella poi poi ra chischi e ismaili a centro campo stefanenko e fred in attacco marlos tyson bernarda copri l'unica punta che ferrera il capitano è tyson la roma che attacca da attacca da sinistra verso destra schiarano con 4 2 3 1 alison becker in porta kolarov fazio manoranz florenzi in difesa centrompo sott manderosi in attacco per ottina in gran gg zundera copri l'unica punta che è in gecko e il gol del pareggio dello shaktar di donesco mamma mia è durato pochissimo è durato pochissimo il primo il vantaggio il secondo tempo il secondo tempo della della roma mamma mia veramente mamma mia doveva ha sbagliato ha sbagliato la roma veramente in questa in questa circostanza ha sbagliato e c'è stato un piccolo contropiede e ha segnato il numero 19 ferrera ha segnato mamma mia che ha saltato mano l'ha saltato numero 44 manolas due volte quindi veramente ha sbagliato ed è uscito uscito fuori allora quindi la roma shaktarionesca roma è adesso sulla 1 quando siamo andati alle 50 duesimo minuto adesso la roma che ci prova niente è riuscito non è riuscita a fare nulla la roma per quanto ci riguarda veramente ha sbagliato in quell'occasione lasciato la tv da roma partire ferrera ma non poteva non poteva io ve lo dico da solo andare a cercare proprio ma non poteva andare a prendere a prestare solo ferrera quindi ha sbagliato la roma in questo caso il pareggio si si il pareggio in questo caso la roma ha sbagliato ed è peccato peccato che che ha sbagliato veramente veramente io voglio salutare un po di gruppi che ci stanno allora un po di gruppi che veramente ci ospitano con la con la radio cronaca ringrazio il gruppo più partecipe che a s s s roma mai mai sola mai ecco il il gruppo che ci sta che ci sta veramente ospitando veramente qualcosa mi ricordo che nella fine partita faremo anche un piccolo post velocissimo su radio inizio del campionato vorremmo anche interagire sul gruppo s rova mai sola mai vorremmo interagire con 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 voi quindi allora allora diciamo che la roma ha sbagliato in sostanza veramente radio square la nostra radio veramente che è una radio la nostra radio fantastica si sta portando il salve con la car veramente per capire come vanno le italiane pareggio anche adesso per la roma vedremo se riuscire ad andare in vantaggio ma adesso siete in difficoltà netta netta nettissima difficoltà per 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 la roma veramente 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 quindi per per parlarvi di una roma che sta sbagliando e allora diciamo che qualcosa poteva 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 veramente la poteva fare qualcosina ehm di più diciamo ehm veramente eh quando ha pareggiato lo ehm lo 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 shaktar ehm di veramente di donesque di donesque veramente la roma ha sbagliato Al gol di Gigi Zunder c'è anche il gol di Fegundo Ferreira, è veramente qualcosa di straordinario proprio per quanto ci riguarda. In realtà la Roma vuole fare qualcosina in più. Grazie. Grazie.